Alla Meloni cosa si sente di dire? Che poiché ha vinto, adesso deve fare l'impossibile per governare esattamente come si attendono gli italiani rispetto a paure, preoccupazioni e problemi. Così il neodeputato eletto Luciano D'Alfonso alla Camera si rivolge alla vincitrice di queste elezioni, ammette la sconfitta del PD e chiarisce che ci sarà una riflessione, poi parla ad ampio raggio dell'esito delle elezioni. Sono rimasto colpito e consapevole, consapevole del fatto che l'offerta della destra italiana potesse trovare prevalenza sia nei collegi che dal punto di vista della scelta proporzionale. È stato un voto che secondo me ha cristallizzato sia i problemi che sta vivendo l'Italia, sia anche una scelta emotiva di cui è stata capace come interprete la Meloni e anche il suo schieramento. Il centro-sinistra ha perso, il PD ha assunto un risultato dal quale deve ripartire, ricercando le ragioni della sua identità. C'è anche una questione che riguarda l'Abruzzo, noi partiamo da un dato in assoluto come valore di 100.000 abruzzesi che ci hanno votato e con questi dobbiamo ritrovare le ragioni di un'offerta politica che sia prevalente. Ci saranno ripercussioni all'interno del PD abruzzese? Ci sarà di sicuro un grande lavoro che dovremo fare raddoppiandolo, facendo in modo che aumenti il numero di coloro i quali aiuti l'iniziativa dei democratici in Abruzzo. Ogni volta si riparte da zero, quello che è certo è che abbiamo 100.000 persone disposte ad aiutarci rispetto al progetto del cantiere dei democratici e dei progressisti. Parla dell'importanza delle alleanze in politica. Io personalmente avrei fatto l'alleanza anche prima di queste elezioni politiche. L'avrei fatta coinvolgendo sia i 5 Stelle sia anche questa offerta centrale che pone nel merito le questioni dell'economia che vedono Calenda e Renzi impegnati. Suo risultato del Movimento 5 Stelle della Lega? Sono contento per il fatto che i 5 Stelle abbiano conosciuto questa seconda fase della loro vita. Per la Lega io sapevo che sono più una realtà del nord ben governato che del centro e del sud. D'Alfonso si impegnerà, detto e prima persona, per l'Abruzzo e non solo. Cercherò di conoscere i dossier che sono in itineri presso la Camera dei Deputati e farò valere le ragioni dell'Abruzzo, dei piccoli comuni, delle terre alte abruzzesi e delle città del mare. Ha vinto, conclude queste elezioni, l'offerta di Fratelli d'Italia ma adesso mi auguro che questa responsabilità non porti all'isolamento dell'Italia nello scenario internazionale e soprattutto europeo perché abbiamo bisogno e anzi abbiamo necessità dell'Europa, delle sue politiche e dei suoi aiuti a partire dalla piena realizzazione del PNRR. In ultimo non resta che cambiare la targa da officina del senatore a quella del deputato D'Alfonso.